Che sia chiaro, tutti gli uccelli possono virare e tornare da dove sono venuti Ma solo il colibri ha la capacità di battere le ali veloce, sempre più veloce E di sentire il vento, che dalla coda gli scivola lungo la schiena e si infrange sul collo Il colibri era da tanto tempo che non ci pensavano Bravissimo! Qualcosa di strepitoso quest'uomo Grazie, grazie a Enzo per averci introdotto nel magico mondo di colibri Queste erano solo le prime righe del libro E adesso per prima cosa ci terrei a chiedere al Pollutri Perché questo titolo e perché sulla copertina c'è un piccione Beh, sì, fatemi tutte le foto, è una bella Grazie Sì, il libro, come diceva Enzo, il colibri è l'unico uccello capace di volare all'indietro E il protagonista della storia è un po' come lui E' un professore che parte per andare incontro a un passato di cui si era dimenticato E c'è un...